Come farà a conciliare queste due visioni contrastanti? Per la verità Renzi la pensa come la pensiamo noi, cioè che il reddito minimo di inserimento per indenderci è un provvedimento necessario soprattutto per un segmento di società che non ce la fa, non sufficiente e la pensa come noi perché attraverso le politiche di crescita e di sviluppo si fa occupazione. O noi facciamo questo o un segmento di questa società non ce la fa. Nell'articolato ragionamento di Renzi c'è stato esattamente tutto questo, recuperare solo una frase io penso che non dia il senso del suo articolato dire di ieri. Lei dice che l'ha pensata allo stesso modo però i fondi 40 milioni ancora non sono stati sbloccati? No, sono stati totalmente sbloccati nel senso che tanto il Mise e quando il MEF hanno siglato il decreto. Questo decreto interministeriale è andato alla Corte dei Conti nazionale, ha avuto l'omologa la validazione e adesso il tavolo tecnico, Mise, tavolo tecnico non politico e Regione Basilicata devono soltanto scrivere in pochissimo tempo la declinazione, cioè come materialmente queste misure vengono svolte, attuate. CGL i lavoratori si lamentano? La CGL mi meraviglia quando non assume le responsabilità come spesso fa, per la verità. Io sono abituato ad una CGL che mette il petto, la faccia e che si assume le responsabilità. Quando fa finta di non star dentro i problemi e che guarda le cose dal balcone ho l'impressione che viva una vita a sé. Che cosa vuole dire ai cittadini? Che stiamo intensificando il nostro lavoro e che stiamo accelerando i tempi, che non tutto nei tempi dipende dalla Regione Basilicata, perché se dipendesse da noi avremmo fatto ieri, non domani. La verità è che stiamo incalzando il Ministero dello Sviluppo Economico, la parte tecnica, perché si chiuda questo lavoro. È inevitabile, dobbiamo farlo per forza, noi ne abbiamo necessità, ne hanno necessità i lavoratori, i cittadini, i cassi integrati e la società lucana.